Io condividevo in pieno, sarà un caso che la Corte Costituzionale l'ho bocciato, ma probabilmente è anche vero che forse non è uno dei temi da referendum, è più da legge approvata al Parlamento, perché si può meglio rifinire purtroppo come referendum, bisogna andare un po' con l'accetta, quindi c'è il rischio che poi la Corte Costituzionale rivedi l'intervento sulla norma X, le termine rispetto alla norma X, bisogna leggere poi un'attenzione di un'operazione della Corte. Un Parlamento che non riesce a produrre riforme degne di questo nome sui perveni, sulle materie che necessiterebbero appunto di interventi. Lo stesso vale appunto con la riforma della giustizia, una vera riforma della giustizia fatta in Parlamento, il referendum anche questo è un strumento che non sempre si presenta il più idoneo.